A due settimane dalla chiusura della 46esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, Cartocetto prosegue il suo viaggio sensoriale con trionfo gourmet. Rassegna che vede quattro rinomati chef della provincia unirsi per esperienze culinarie straordinarie sostenuti da esperti sommelier e virtuosi ensemble musicali. Si comincia domenica 26 novembre con gli chef Lucio Pompili del Symposium e Tiziano Rossetti dell'Angolo Divino di Urbino in un'esperienza culinaria accompagnata dal percorso musicale intitolato Non ti scordar di me, canzoni e romanze da salotto. È anche un po' un preludio di quello che sarà lo straordinario progetto del primo polo performativo multisensoriale in Italia che grazie a questo finanziamento di 2 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura verrà realizzato all'interno del Teatro del Trionfo e Trionfo gourmet, cioè questi tre pranzi a quattro mani con anche in abbinamento i vini raccontati dall'Associazione Italiana Sommelier e questi concerti dedicati alle pochissime persone che avranno accesso alla platea del settecentesco Teatro del Trionfo è appunto una sorta di preludio a questa immersione sensoriale, in questo caso di gusto, di olfatto, di vista e anche di udito visto la musica ispirata alle genialità marchigiane ma che poi sarà anche rivisitata sulla base di una serie di contaminazioni che vanno anche fino al pop e al jazz della situazione e quindi dicevo che sarà un po' una sorta di anteprima di tutto quello che negli anni a venire succederà all'interno del Teatro del Trionfo. Un percorso, quello di Trionfo gourmet, coerente agli eventi di Cartoceto che continuano a miscelare l'eccellenza agroalimentare con quella culturale. Questa non vuole essere soltanto un tre date di iniziative appunto per il 26 di novembre, 3 dicembre e 8 dicembre ma vuole essere una delle tante declinazioni di questo format che abbiamo in testa, di questo obiettivo che abbiamo in testa come modello di sviluppo sia sociale che economico per il borgo storico che parte per l'appunto da quella che è la centralità dell'elemento identitario di Cartoceto e del suo territorio più allargato ovvero l'agroalimentare d'eccellenza ma poi si fonde e si contamina appunto con tutte quelle che sono davvero le bellezze e le eccellenze che possiamo anche esprimere per ciò che riguarda il patrimonio storico, paesaccistico, culturale come appunto lo è il settecentesco Teatro del Trionfo che nemmeno a farlo apposta nel settecento originariamente era un frantoio e un magazzino per l'ammassamento delle olive e poi è stato di lì a poco trasformato in quello che oggi conosciamo come uno dei teatri più piccoli ma sicuramente più fascinosi che abbiamo all'interno della regione Marche.